Per il messaggero Lazio e Roma che si giocano il secondo posto, quanto vale in termini di vendite? Per esempio rispetto al Corriere che c'ha Milan in Inter un po' più in giudice Ma certo, indubbiamente vale qualcosa il problema è che questo è un secondo posto non è il primo, già sarebbe stato diverso se come altri anni più fortunati avessimo avuto la possibilità di contenderci il primo posto, però è una bella gara devo dire che ci sono i romanisti molto depressi per questo fatto, perché loro non pensavano di essere raggiunti appunto dalla Lazio. Tra gli acquirenti del messaggero prevagono i romanisti o gli alziani? Non mi dire 50-50 perché è una risposta democrafica è un tema delicato perché molti nostri lettori sostengono che la verità è che sono in maggioranza i romanisti secondo me potrebbe essere numericamente vero ma la verità è che comunque i romanisti fanno più, diciamo, gran cassa rispetto ai laziali i quali hanno sempre vissuto la loro condizione con più sobrietà e anche più, diciamo, indisparte la verità è che insomma sono due squadre che esprimono anche due modi diversi di via la tifoseria e diciamo si contendono la prima pagina del messaggero come se fosse, diciamo così, l'Eden per cui appena dai un centimetro quadro in meno o in più a uno dei due ricevi molte proteste e lamentele perché appunto è un impar condicio secondo me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti